Ma cos'è? Un glitch nei ricordi. Pare ci siano altri dati. D'accordo, truccone. Non posso ancora parte alzare da lì. Completa anche questo. Mmm, bizzarro. Pare che questi ricordi si svolgano vent'anni dopo quello appena visto. Ne sei sicura? Certo. Significa che... Shay è sopravvissuto alla caduta. Se è la persona che credo che sia, allora deve aver... Vai avanti. Dati frammentati. Il ricordo è incompleto. Che posso fare? Dobbiamo scoprire che vuole fare Shay. Il ricordo non sarà perfetto, ma sono quasi certa che sequenziarlo non ti ucciderà. Bene, truccone. Non sappiamo dove sia Shay o cosa ci faccia a vita. Quindi tieni gli occhi aperti. Voglio sapere perché è venuto in questo posto. Sentito che ha detto. Forza. Com'èes düşünce? Non, 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 non. E allora, vous l'avez trouvée? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magna, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous brûler! Allons-y! Benjamin Franklin, ecco qui cerca Shay. Franklin ha viaggiato in Inghilterra e Francia e quel tipo ha detto Notre-Dame. Shay è a Parigi. Fammi vedere che sai fare. Elimina la viaggia. Proteggi Franklin. De l'Archelot! I can get him from here! Il è là! Attrapez-le! Il ne nous échapperà pas cette fois! Merda! Che succede? Non abbiamo altri dati, non possiamo continuare con questo ricordo. Per ora. Shay non può essere morto se è ricomparso in Francia vent'anni dopo. Ci sfugge qualcosa. I ricordi di Shay sono sparpagliati nel cloud. Il virus ha danneggiato i server e non si può accedere tutta la sua vita in una volta sola.